Momentari ragazzi sono bentornati in questo prossimo episodio di GTA Vice City Continuiamo Ragazzi noi ci siamo lasciati nello scorso episodio abbiamo finito la Shanshine Autos Infatti abbiamo avuto tutti i veicoli speciali, unici e tutto ciò che ne consegue Quindi oggi ragazzi andiamo a prendere un'altra Cioè a prendere, ad acquistare Un'altra proprietà Se non prima di prendere un altro po' di munizioni per l'RPG Che adesso ne abbiamo ben 12 Non so, cerchiamo di usarli nel momento opportuno questi missili Allora io ho guardato un po' in giro e penso Che visto che siamo già qui di andare a comprarci il porto Visto che siamo già qui praticamente E poi se facciamo in tempo Cioè nel senso se non dura 80.000 anni Le missioni del porto Eh no però questa è quella scrausa Vabbè Ci andiamo a fare Cioè ci andremo a comprare un'altra Un'altra società Questa quant'è che costa? 10.000 Sì Perché no? Sì 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 Ok, uh... Penso che dobbiamo andare qua, no? Questa è lo squale, questa è la Jet Max, presumo, qualcosa del genere. I pacchi prima dello scadere del tempo. Fammi spegnere la radio, perché altrimenti dopo... YouTube dopo comincia a rompere. No, aspetta, no, perché mi è cambiata la visuale. Aspetta... C'è miseria... Dov'è? No... Cioè... Ah, pure i salti mi fai fare? Sei un maniaco. Io devo andare piano, perché devo capire dove sono. Vabbè che mi aiuta pure il radar, però... Cioè... Radar barra minimappa. Per chiarirci. Adesso è un minuto e venti, non lo so se ce la faccio. Ma quanti sono in totale? Non c'è un turbo qua? Un minuto, cazzo. È perché ho perso troppo tempo là nel... Dove cazzo? No! Niente, mi tocca rifarla. No, mi tocca proprio... Sì, certo. Oh, io ho preso un pacchetto. Cosa è a caso anche? Vabbè, la rifacciamo. La rifacciamo. Dove cacchio sono qua? Sì... Sì, vabbè. Sì, vabbè. È qua. Devo ritornare nella... Nella seconda isola ancora. Eh, patan-tan-tan-tan-tan. Ma te lo do io un tan-tan-tan, guarda. Oh, grazie. No, torna qui immediatamente. Mi fate uscire da qui? Vabbè, il sole. Ti spacca gli occhi. No! Carco! Porca vacca, se ti rovesciavi. No, però mi prendo questa perché almeno è molto più veloce. Vedi? Vedi? Ma che caccia è ancora la deluxe qua? Ma che cacchio è? Dimmi che c'è ancora la barca, sì. Ma qua posso salvare nel caso, sì, là. che cacchio è ancora la barca. Rifacciamo. E ho capito. Aspetta perché questa è... è la parte bastarda. Eh, vedi? E prendi. Cazzo. Qui anche queste barche qua in mezzo alle balle. e salto. No, qua ce ne sono ben tre salti perché sei un maniaco. Ah, ah! No, levati te. Un po' cheria le Un po' cheria, il ruido sa perciato. Un po' cheio. Un po' cheio. Un po' cheio. Un po' storico. Un po' cheio. Un po' cheio. Un po' cheio. Aspetta qua adesso c'è la parte bastarda Porca Tra un po' eh Qua c'è Dopo questa curva Eh vedi qua Porca Miseria Porca vacca levati Sì ma che razza No non c'è la Se 40 secondi 45 secondi Dai 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 Uh Rosso vuol dire che questo è l'ultimo Porca vacca Oh 18 secondi eh Poco meno di 20 secondi Ma stiamo scherzando Ok Dovremmo fare in tempo comunque Aspetta Mappa Allora se io Eh sì devo per forza Ritornare qua Andiamo a comprare Un'altra Attività allora Da abbastanza bene No? E sbompete Grazie Grazie Vediamo un po' quali altre Attività ci sono In realtà ne ho in mente Un'altra Ho già in mente Che cosa farne Un Già di diverse Però Vediamo la più vicina Dammi sto Cosa qua Allora Ok ci sarebbe Questo Che adesso Non mi ricordo esattamente Che cosa sia Però La si può comprare Oppure Sempre qua Nelle vicinanze No Questi rompono le palle Ci sarebbe Questo Il Il Kaufman taxi No Questi rompono I coglioni Via Ah A meno così Non dovrebbero più rompere Non mi investire Soldi 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 Vabbè Soldi Insomma Però Almeno Quanto è che costa Oh Mi fai vedere Quanto costa Porca 40.000 Eh Dai Mi fai Mi fai Mi fai Faccio Anyhow, I guess you'd better get on with the things are gonna change around here crap. Maybe threaten one of the drivers. Go steady on Ted over there. He's just had his hernia thick. Well, yeah, things are gonna change around here, lady. Oh, crap, Sonny. Might as well leave this to me. I've been doing this for years. Now, here's this. We are now under new management and things are gonna change around here again. Our new management, the... Which gang are you? Well, I'm not part of any gang, actually. What's your goddamn name, kid? Bersetti. Tommy Bersetti. Our new management, the Bersetti gang, is gonna make sure we get no trouble. Capisce? Out. Did you like the capisce? I like the capisce. So this is how it's worked in the past. We run the firm as usual. If we get any trouble from rival firms, you beat the crap out of them. Then they beat the crap out of us. Then you beat the crap out of them. Et cetera, et cetera. You got it? Uh, yeah, I guess. Just grab a taxi from the garage and you feel like jumping in. All right. Ok, allora, qui... Eh, sì. Ed ecco dov'è la musichetta che si sentiva. Abbiamo poco dei monkey e degeneration. No, degeneratron, non generation, vabbè. Comunque. Ah, va, senti, senti. Ehm... Sì, faccio un salvataggio. Là. E direi che siamo pronti ad andare. Vai. Sta cazzo di musica. Che poi YouTube rompe le balle. Ok, dobbiamo andare a prendere il VIP subito. Che si trova a Starfish Island. Praticamente dove c'è il nostro quartier generale. Oh, non mi graffiare il taxi, è nuovo. Oh, non mi graffiare il nostro quartier. Che stronzo. Ti sparo. Lo ha investito. No, eh. No, eh. E' qua? No, in casino si trova. Vabbè. Dov'è che si può... Ma è all'aeroporto, eh. Eh sì. All'aeroporto, mi sa. Uppala. Infatti è proprio qua. Se riusciamo mi prendo anche un po' di munizioni per il fucile a pompa. Maledetto. Così. Così, sai. E ritorniamo da Kaufman, allora. Perché non abbiamo ancora finito con le missioni. Perché quando abbiamo finito completamente con l'attività ci assegnagli enetroiti dicendo Questa attività avrà un guadagno di tot dollari. Però qua ancora non è uscito. Quindi vuol dire che questa attività non è stata ancora completata. Ok. E sbampete così. Altra missione. Ma così, sai. Distruggi tre taxi rivali. Ah, tre, così. Vabbè sì, giustamente c'è la concorrenza. Quindi dobbiamo provocare danni. Aspetta, 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 aspetta che un taxi è già qua. Dobbiamo proprio distruggerlo? Questo che mi stai dicendo? Via, 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 via. E uno, sì. Hai sentito il beep? Però mi dispiace sputtanare... Le munizioni così. Un taxi qua. Eh, però c'è un altro. Eh, vabbè. Uno l'altro. Mannaggia al Gelflin. Questo non ci vado addosso. Gli sparo direttamente. Meno male che l'MP5 fa molti danni. Forse è una delle armi più OP del gioco. Eh, perché l'ho toccato. No, stami lontano, stami lontano. 2.000 va bene andiamo a fare l'ennesima missione aspetta che mi prendo un po' di soldi però adesso vedo qua che mi prendo un po' di soldi qua dovremmo averli accumulati tutti ben 3.000 se ritorno nel mio quartile generale ne dovrei recuperare 6.000 vabbè che tanto lì però non c'è voglia sicuramente ora come ora andiamo di nuovo da Kaufman a prenderci un altro taxi ancora chissà quante missioni sono in totale ne abbiamo già fatte due so tipo 4 un numero a caso ho capito devo fare così così allontanarmi fare una sorta di giro dell'isolato e poi ritornare ci dovrebbe ricomprare così per puro caso il taxi guarda questo eccolo là vedi cosa c'è qua su danger vabbè oppala e oppala perfetto a downtown addirittura guarda no il pulizotto può porre a rompere no proprio no non ci sto ma non è downtown qua cos'è ho letto male o devi andare o devi andare a downtown vabbè adesso vediamo oh la la pulizia è ancora a rompere che cacchio è qua ma che cacchio ma scusa come ah come c'ha arrivo lì no come c'ha arrivo lì e no però ho paura di di qua no 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 oh che cacchio devo restare vivo bene no 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 ma questi t spasciano tutto aspetta e sono anche più veloci di te no sta già fumando ahi sui Metti fuori combattimento Ma me sta fumando Ok mi sa che è giunta Ma 8 Si ho sprecato Una po' di munizioni ma va bene E il tax è già completato Quindi Cosa che ci rimane Ci rimane Ah no è la pole position Però vabbè Il pole position deve stare 5 minuti Si perchè poi non ne l'ho più preso Quello Non ne l'ho più preso Quello Ci sarebbe Vabbè quindi Torno a dire La pole position No la taxi l'ho già preso Cosa che manca La Cosa dei film E poi basta Mi pare La cosa dei film E un altro che Adesso non mi ricordo Perchè qua non penso Che puoi comprare Dell'altro In questa zona Non penso A parte il pole position Perchè qua c'è il malibu Non so se qua puoi comprare qualcosa Non lo so Qua devi comprare la cosa Niente Andiamo a prendere Quell'altra attività Quella lì Che non so bene Che cosa sia Vicino alla Cosa Kaofman Perchè quella Proprio non mi ricordo Cioè Ho L'ho letta Però proprio Non mi ricordo Non mi ricordo Anche perchè Altra A parte La cosa Lo studio Cive Nematografico Che È abbastanza Una palla Almeno Da quello Che ho Lato in giro Che c'è Delle Missioni Abbastanza Pallose No Esci da lì Che miseria No Cazzo E spara Che non spari Oh No Provare Aspetta Mi Devo riprendere La cosa Qui Perchè Vabbè Solo 9 punti Però mi dà fastidio Sei Com'è Qua non è che c'è qualcosa No Ok Piano Che qua Ecco Vedi Ci sono Questi saltelli Che rischi di Perdere bene 5 punti A rematura Così gratis Ma cos'è un magazzino Però Vedere così La tipografia 70.000 Soldi ce li abbiamo Se 70.000 Però Aspetta Prima voglio Uccidere Quello Perchè Mi dà Altamente Fastidio Oh Porca Miseria E prende La tipografia Vediamo Un po' Che cos'è Ah così Proprio Ne è anche Un filmato Di una Traduzione Che ti dice Un po' Che cos'è No proprio Però prima salvo Ok E Anzi sai cosa Perchè non ne voglio Che le video Dura troppo Quindi Vedremo Le emissioni Della tipografia Nel prossimo episodio Intanto L'abbiamo Acquistato Quindi Ragazzi Direi che Per questo Episodio Di Vice City Direi che È tutto Vi ricordo Che se Non siete Anche iscritti Al canale Iscrivervi Se volete In maniera Giornati I prossimi Episodi Di questo Gioco Di altri Giochi E mettere Un bel Policione Su Se vi è Piaciuto L'episodio E mi raccomando Dividete anche La vostra Nei commenti E noi Ci risentiamo A un prossimo Video Ah è Ritornata